C'è già grande fermento in TV con possibili movimenti decisamente interessanti e anche inaspettati. L'ultimo in ordine di tempo riguarda un conduttore, che potrebbe lasciare Mediaset per approdare alla RAI. Si tratterebbe di un cambiamento totale da parte del giovane presentatore, che potrebbe quindi voltare pagina e trovare altri stimoli per proseguire col suo lavoro. Il conduttore potrebbe quindi lasciare definitivamente Mediaset per sbarcare alla RAI, precisamente sul secondo canale, dove dovrebbe presentare un programma tutto suo. La notizia è stata data in anteprima dal sito d'Agospia e in particolare dal giornalista Giuseppe Candela. Vediamo insieme cosa dobbiamo attenderci nei prossimi mesi. Innanzitutto possiamo dire che questo conduttore, che potrebbe lasciare Mediaset per sposare un progetto RAI, fa parte del team delle Iene su Italia 1. Ma ora dovrebbe abbandonare la trasmissione per dare il massimo in una trasmissione della televisione pubblica italiana. Infatti, Candela è stato molto perentorio, saluterà il programma di Davide Parenti. A dire addio alle Iene sarebbe Antonino Monteleone, che lavora come inviato ma anche conduttore dello spin-off che si chiama Le Iene presentano, Inside. D'Agospia ha quindi aggiunto, lui è in pole position, sostenuto dal suo manager Beppe Caschetto, per occupare la fascia che fu di Michele Santoro, negli anni invasa da diversi titoli flop. Quindi, il suo futuro potrebbe essere su RAI 2. Antonino Monteleone, che ha 39 anni ed è originario di Reggio Calabria, lavora come inviato delle Iene dal 2017. Nel 2022 ha iniziato la sua avventura Le Iene presentano, Inside, ma ora potrebbe andarsene nella TV di Stato.